Il Men Garden è un progetto volto a riqualificare una zona nel centro storico di Pesaro molto bella e soprattutto storica, è un posto molto sentimentale e poetico all'interno di Pesaro, un giardino nascosto come l'abbiamo chiamato noi nel payoff che va sicuramente rivalutato e riqualificato anche perché molte volte certi spazi si trovano un pochino all'abbandono e quindi secondo noi era giusto non lasciarlo all'abbandono ma farlo rivivere come un posto positivo di cultura e di arte. Sono cinque date specifiche, la prima è con Matt Sedillo che è uno dei più grandi poeti dell'underground americano che si svolgerà l'11 di maggio, il 19 di maggio abbiamo Bonnie Prince-Billy, uno dei migliori cantautori in assoluto sulla scena americana, unico evento a pagamento, il 2 di giugno abbiamo realizzato un mercatino del vintage legato anche al vinile con una serie di espositori provenienti dal centro Italia e concerti a seguire. A seguire poi la data del 6 di luglio abbiamo una notte dedicata alle etichette indipendenti con la We Were Never Be Boring che è un collettivo italo-americano che ha una serie di produzioni in atto legate anche alla città di Pesaro con diverse band e per chiudere il 3 di agosto Canutè Zanotti, Summer Fortet che è dedicata alla musica etnica alla Forbitta. Grazie per venire! Grazie a tutti! Grazie.